Tornare a scuola in sicurezza è questa una delle principali sfide da affrontare nella fase 2 dell'emergenza coronavirus a Lanciano. Tema discusso anche nel Consiglio Comunale Straordinario convocato per la prima volta in videoconferenza. Ad oggi siamo ancora in attesa di indicazioni chiare dal Governo su come far rientrare alunni, insegnanti e personale in sicurezza nelle nostre scuole, ha detto il Vice Sindaco e Assessore a Pubblica Istruzione e Lavori Pubblici, Giacinto Verna, rispondendo alle sollecitazioni della minoranza. In particolare si sta ancora discutendo se gli studenti entreranno tutti assieme o a doppio turno, se una parte della classe sarà a scuola e un'altra continuerà a frequentare le lezioni in remoto. Al momento non si conosce neanche la data della riapertura delle scuole, l'unica certezza è il distanziamento sociale. In questo vuoto normativo e di informazioni, i tecnici e funzionari dei settori coinvolti fanno il punto assieme ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi. Nella fase 1 il Comune di Lanciano ha attivato il progetto Social Nido per continuare a dare con la didattica a distanza un servizio a titolo gratuito alle famiglie, oltre a derogare il servizio di assistenza specialistica a circa 70 bambini disabili seguiti con la didattica a distanza o incontri a domicilio. Nella fase 2 sono tre le direttrici su cui il Comune di Lanciano si muove, ordinaria amministrazione, cantieri e progettazione. Con le scuole chiuse si stanno facendo tutti gli interventi di minuteria per verificare che tutto sia a norma e funzionante, spiega il Vice Sindaco. Si portano avanti i progetti già finanziati di edilizia scolastica, come l'adeguamento sismico, la primaria Olmodiriccio e all'infanzia D'Amico. Nelle prossime settimane saranno appaltati 300 mila euro di interventi per il miglioramento strutturale e la messa in sicurezza di altre cinque scuole. L'amministrazione comunale sta anticipando con sopralluoghi e verifiche e richiedendo anche qualche preventivo per capire come riorganizzare le scuole per la riapertura, la messa in sicurezza di ingressi e uscite, la disposizione degli arredi per rispettare il distanziamento sociale, la reazione delle aule. Si attendono linee guida dal decreto rilancio.